La Cirelli Motor Company è un'azienda italiana, è occupata alla commercializzazione di automobili di base cinese, quindi costruite di primo concetto in Cina, negli stabilimenti cinesi, e definite nello stabilimento di Ciserano in provincia di Bergamo. Siamo occupati nel miglioramento, nella ricerca e nello sviluppo di questi prodotti delle nostre carline per dare anche il massimo dell'efficienza e dell'affidabilità ai nostri clienti finali. In Italia definiamo le vetture con la collaborazione di aziende esclusivamente italiane abbiamo un'implementazione importante e un upgrade importante in tutti i modelli dove grazie a test drive di oltre 100.000 km per ogni modello andiamo a migliorare l'efficienza di qualsiasi componente. Un dato oggi molto importante è che le nostre vetture hanno un grado di richiesta di guasto e quindi richiesta di garanzia pari allo zero virgola pertanto siamo consapevoli che il miglioramento e la nostra definizione della vettura nei nostri stabilimenti riesca ad arrivare ad un progetto di qualità molto soddisfacente. In questo momento la rete ufficiale della Ciroli Motor Company conta circa 50 concessionari sparsi per la nostra penisola italiana ma abbiamo notevoli richieste per aggiungere questo dato e raddoppiarlo a brevissimo termine questo in quanto vogliamo essere capillari in tutto il territorio per dare assistenza a tutti i nostri clienti. A breve la nostra espansione verso mercati esteri quali Slovenia, Svizzera, Belgio, Spagna per poter divulgare tutto il nostro brand in tutta Europa. Vogliamo avere un concessionario che ci rappresenta in grado di avere un ottimo servizio di assistenza la nostra gamma comprende varie dimensioni di veicoli siamo in grado di soddisfare un po' tutte le esigenze del cliente finale spaziamo su una produzione di veicoli a benzina e benzina GPL e nel caso del nostro pick up con la motorizzazione diesel possibile anche con cambio automatico. Credo che oggi la collaborazione con dei grossi gruppi cinesi nell'ambito della filiera dell'automotive sia importante sia fondamentale perché la costruzione in quelle grandi aziende è una costruzione molto innovativa oggi quindi pensare di avere una collaborazione con loro credo che sia fondamentale per il presente e per il futuro soprattutto. Grazie a tutti.